Buongiorno, benvenuti alla segna stampa di oggi 8 dicembre, l'Immacolata, e quindi a tutti quanti voi. Che cosa è successo oggi sui giornali? Beh, ancora c'è lo psicodramma Pisapia. Lo psicodramma Pisapia perché sembra che sia la fine del mondo, o almeno la fine di Renzi, dopo che Pisapia ha detto che non sarebbe andato, che avrebbe sciolto il suo partito che non è mai nato, poi tutto sommato, che si chiama, come si chiama? Vabbè, quella roba lì che non è mai nata, e sembra che il PD e Renzi siano in grandissime difficoltà, come se le difficoltà del PD e di Renzi non nascessero prima di Pisapia. Pisapia ne è diventata forse il catolizzatore. Due pagine del corsiere per raccontare questo dramma della mancanza di Pisapia, e poi c'è un grafico che però fa pensare. E vi dico qual è, bravo Mario, Pisapia tutte le feste se lo portano via, Mario simpatico bucolo. Allora, è molto divertente la galassia di Pisapia, che viene definita dal fatto di oggi il dream team di Giuliano guarda verso Grasso. Il dream team, va bene, per come i giornali riescono a creare. Ve lo leggo io dalla Galassia della Repubblica. Ciccio Ferrara, Franco Bordo, Gianni Melilla, Marisa Nicchi, Luciano Uras e poi Bruno Tabacci. Allora, sarà pure un dream team. Non voglio togliere nulla a questi professionisti della politica che saranno straordinari, ma qualcuno di voi li conosce? No, io dico, qualcuno di voi conosce Ciccio Ferrara? Che peraltro io da qualche parte devo aver già sentito. Franco Bordo? Gianni Melilla? Ma chi sono? Ma chi sono? Cioè sono dei deputati, eletti col PD, penso, immagino, la mia ignoranza è totale, che adesso rappresentano il dream team per cui tutti quanti si strappano i capelli perché non verranno, non staranno con, come si chiama, con Renzi. Può anche darsi, sarà un disastro. Forse è meglio questi che quelli che conosciamo noi, può anche darsi questo. È molto bello oggi il pezzo sulla prima pagina del Corriere della Sera, mi sembra che sia di Verderami o di chi per lui. in cui, eccolo qua, Mario Fois, Uras è un rifondarolo sardo, bene, quindi c'è un rifondarolo sardo che non va con Renzi. Insomma, possiamo anche farne meno, penso, potrà anche farne meno l'Italia del rifondarolo sardo, oppure andrà con grasso, che mi sembra che abbia più senso. È il dream team di Pisapia. Bella l'idea di oggi sul Corriere della Sera, in prima pagina, peraltro l'aveva già scritta, in una certa maniera, anche sulle pagine dei commenti Bartezaghi su Repubblica, nei giorni scorsi, ed è Verderami a scriverlo, e dice che la politica è l'unico campo al mondo in cui l'esperienza viene considerata una liability, una roba negativa. In realtà, l'esperienza dovrebbe dare, invece, la capacità di sapere, conoscere, fare più cose. Invece, quando sei in Parlamento, l'esperienza che tu sei lì da 4-5 anni viene considerata un dato negativo e chi dice non mi candiderò più come di Battista viene considerato un eroe, ma il partito che non lo candida viene considerato come eroico perché, dice, arriveranno tutti nuovi. Ma i nuovi, prima che capiranno dove sono, come cambiare le cose, passeranno anni. Insomma, è l'unico posto al mondo in cui la politica in Italia viene considerata un problema. Molto interessante il pezzo di Verderami. Noto soltanto che questa idea assurda per cui l'esperienza in politica non serva mi sembra che sia nata con il PD di Veltroni e con quella ministra Madia che oggi ci troviamo, ministra appunto, di cui non so bene che cosa abbia fatto della sua inesperienza, tant'è che lei, quando entrò in Parlamento grazie a Veltroni, perfetta sconosciuta, ma dei circoli buoni romani disse, entro in questo Parlamento e porterò in Parlamento la mia inesperienza. Incredibile la storia di Marcello Dell'Utri che vi ricordo essere stato condannato a sette anni di carcere per concorso esterno mafioso. Quindi un reato grave, anche se la cui, diciamo, come ho sempre detto non solo per Dell'Utri, ma come molte hanno sempre detto per tanti altri i cui confini sono piuttosto labili. Bene, il signor Dell'Utri ha iniziato lo sciopero della fame perché il Tribunale della Sorveglianza gli ha negato la possibilità di curarsi ai domiciliari. Voi direte, beh, è un malato come tanti? Sì, esattamente come oggi nota bene Sallusti sulla prima pagina del giornale e lo stesso problema ce l'aveva Sofri, cioè un tumore e Repubblica che oggi tanto si accanisce contro Dell'Utri ricorderemo le battaglie sul fatto della umanizzazione della pena e sul fatto che una persona come Dell'Utri ha acquistato diagnosticato un canto il 20 luglio, l'ha saputo a settembre, non è riuscito ancora a fare un'analisi con i medici nonostante le richieste del carcere di un cancro che ha fino ad oggi beh, insomma, se questo a voi vi sembra un paese normale nei confronti non di un ergastolano, non di un uomo che ha ucciso e comunque ha il diritto ovviamente alla salute no, nei confronti Dell'Utri nessuna pietà secondo voi, perché il concorso esterno o perché Dell'Utri ha contribuito a fondare Forza Italia ed essere amico di Berlusconi? questo è il vero fascismo, dice oggi giudiziario Sallusti del fascismo che è falso e incredibilmente ridicolo di cui Repubblica fa finta che siano piene le piazze oggi non parliamo, ma ce ne sarebbe da fare reggendo Repubblica tra l'altro, ovviamente Repubblica oggi che cosa tira fuori? un altro sputtanamento, sempre di chi? nei confronti dell'Utri, del Cavaliere e del Berlusconismo più ne parlano male, più mi sta simpatico sotto lezioni Berlusconi perché proprio vedo il cliché tipico di questi fenomeni che proprio non ci vogliono stare e che preferiscono il Dream Team ve lo ripeto, fatto da Melilla, Nicchi, Ura, Stabacci, Ciccio Ferrara, Franco Bordo va bene, a parte questo Dream Team la notizia è che Falcone avrebbe beccato Berlusconi mafioso non è così, nel titolo sembra così poi è un appunto, poi questo appunto è cancellato poi si capisce che è un proprio emorio di un interrogatorio fatto con mannoia poi non si capisce bene però la possibilità di mettere Berlusconi mafia nel titolo fa godere quei fascisti, quando fanno così, di cronisti italiani il fascismo vuol dire proprio non avere un'ombra di dubbio non avere nessuna, diciamo, vabbè, l'avete capito fantastica oggi da Corriere della Sera invece l'altra notizia che riguarda sempre Berlusconi oggi non voglio essere fissato su Berlusconi ma quando ci sono le elezioni su Berlusconi ci vanno e gli amici di Berlusconi arrivano i cararmati dell'informazione giusto Barbara, della propaganda elettorale ci sarebbe una norma che ha stabilito la Commissione Giustizia presieduta ovviamente da un PD, ovviamente da un magistrato ovviamente anti-Berlusconiano ovviamente di magistratura democratica la corrente che più ha combattuto Berlusconi nei processi e sapete che cosa chiede questa norma fatta in fretta e furia cioè dopo che il 16 novembre fu assolto fu detto a Berlusconi che doveva pagare l'assegno a sua moglie a Veronica Lario perché aveva già 300 milioni di euro e quindi quelli le bastavano e che questa norma prevede che nelle separazioni invece nonostante tutto si debba continuare a pagare i soldi alla moglie anche se lei è ricca, ve l'ho semplificata quindi una norma che serve a colpire la questione Berlusconi e Veronica Lario ma tutte le persone di questa terra per colpirne uno cioè Berlusconi in maniera incredibilmente ottusa colpiscono tutti quanti i padri separati i mariti separati che rischiano di essere vessati da magistrati che non fanno altro che applicare le norme che altri magistrati hanno studiato in Parlamento contro Berlusconi straordinario Tremonti oggi pensa di essere mandrache in un'intervista a cui io non ci potevo credere dice la seguente cosa che la riforma di Trump fiscale di cui i giornali hanno parlato poco la riforma, Tremonti è ex ministro di Berlusconi che oggi ha un partito insieme a Sgarbi si deve essere fatto preso dalla grandeur di Sgarbi anzi mettendoli insieme i due è chiaro che la grandeur diventa una specie di potenza di dream team della potenza egocentrica e dice guardate Trump in realtà non si è ispirato a Reagan e a Laffer che peraltro forse il professor Tremonti è sfuggito a un'intervista di Laffer di pochi giorni fa in cui ha spiegato esattamente perché Trump si ispira a lui ma comunque dice non si ispira a Reagan alla riforma fiscale dell'86 e a Laffer ma sapete a chi si ispira Trump? lo sapete un po' voi? a Tremonti Trump si ispira alla riforma fiscale di Tremonti del 1994 siccome Tremonti nel 1994 aveva fatto una timida rispetto a quella di Trump defiscalizzazione sulle imprese oggi hanno scoperto che il professor Tremonti che io adoro scopre che Trump si ispira a lui devo dire la verità anzi dice che la riforma di Reagan era in direzione opposta perché si occupava dei redditi dei cittadini e delle persone fisiche e non già delle imprese non è vero perché si interessava di entrambe anche se all'epoca il tema delle imposte sulla famiglia e sui cittadini erano talmente alte che quella era la priorità oggi la priorità è ovviamente quella delle imprese ma è il principio della supply side economics capisco che Tremonti è un grandissimo giurista però forse si potrebbe far spiegare da qualche economista lui non è un economista che quell'idea di Trump è certamente mutuata dalla supply side di cui Laffer e tanti altri Friedman e tutta quella compagnia cantante là erano ispiratori il movimento più divertente di oggi è che è stato assolto Mussali e soprattutto il suo CFO ai tempi Baldassarri ai tempi del Monte dei Paschi di Siena otto mesi di carcere per il CFO del Monte dei Paschi di Siena sono stati assolti per quei famosi derivati Alexandre in cui li abbiamo sputtanati su tutti i giornali la sostanza dicono i giudici della Corte d'Appello di Firenze che si sono comportati in maniera irregolare hanno commesso tanti errori ma ve lo dico io che di tutte queste robe era conoscenza alla Banca d'Italia il regolatore Palazzo Coq dicono i magistrati e quindi non vi è un reato penale vi è un reato diciamo di incapacità manageriale che non è un reato va bene qualcuno ricorda Tremonti che ha accettato il fiscal compact non è così semplice comunque la storia del Monte dei Paschi di Siena di tutti assolti fa discutere Baldassarri giustamente dice io sono pure stato otto mesi in carcere l'ultima cosa riguarda le foto che ho visto oggi sulla scala di ieri a Milano perché c'è stata la scala e devo dire che il contorno di Cafoni non la mancanza di politica dovrebbe essere la notizia oggi dei giornali questi colletti degli smoking alti che pensano di averlo visto in un film di Beautiful hanno finto un'americanata Dallas neanche negli anni Ottanta si usavano i colletti alti per lo smoking non si usa il colletto alto per lo smoking se venite dalla provincia di Firenze e avete vostra sorella che passa da dietro la Boschia è entrata da dietro perché evidentemente non voleva il flash dei fotografi che invece voleva quando si è vestita da diva a Venezia sul red carpet il fratello e la sorella almeno si facessero spiegare da un loro amico di Firenze da un principe fiorentino che tanto hanno frequentato da una contessa fiorentina come si mette lo smoking basterebbe quello non dico quali sono le scarpe per una donna quali sono i modi di comportarsi come si bacia la mano ma l'idea di vedere questa specie di gigantesca montagna di cafoni alla scala secondo me è l'idea più da Lina Sotis e da come si chiamava insomma dalle grandi signore del passato che alla scala ci andavano con gioielli e allure completamente diversa rispetto a questa borghesia rignanesca che oggi ci portiamo a casa e va bene direi che per oggi è tutto noi ci sentiamo domani come sempre con la zuppa di porro ciao grazie a tutti